...con la Utti esordio con pareggio contro il Genoa, i gol nel secondo tempo. Al diciassettesimo diagonale del danese Fig, Ruoto lo tenta a salvataggio ma manda la palla nella sua rete. Al quarantaseiesimo punizione di Bortoluzzi da 30 metri, la barriera smorza al tiro, il rompe Callon e batte Castellazzi. Quinto gol in campionato per l'attaccante della Sierra Leone.